Musica Abbiamo voluto fare questa riflessione sul senso delle parole e l'algoritmo. L'algoritmo sembra non abbia più bisogno delle parole. In realtà l'algoritmo, bisogna ricordarsi, lo creano gli uomini. L'algoritmo sembra oggi determinare tutta la nostra vita personale e comunitaria. Dobbiamo fare in modo di affermare il principio della prevalenza del pensiero dell'uomo, dell'uomo libero, dell'uomo che crede in se stesso e nella comunità e nella libertà. Non basta parlare di digitale per il fatto che capitalizza 4 miliardi di dollari. Credo che sia più importante avviare un processo umano di relazione, di formazione innanzitutto, di educazione al digitale, alla comprensione. Alle nuove relazioni che si possono tessere perché queste siano rivolte verso il bene. Altrimenti prevalengono sistemi obliqui che sono la guerra, che sono la minaccia alle persone, che sono la disinformazione che distrugge più delle armi. Abbiamo approfondito il tema della tecnologia nelle sue varie sfaccettature. Da un lato una soluzione che sicuramente migliorerà la nostra vita, la nostra qualità della vita, grazie a una serie di servizi che garantiranno e ci metteranno a disposizione. Dall'altra parte abbiamo anche affrontato tutti quelli che sono i possibili rischi di un utilizzo non corretto e a volte anche a morale. Lo stiamo affrontando, lo stiamo vedendo già quotidianamente su quello che è l'utilizzo non corretto da parte direttamente, un esempio da parte del crimine hacker. Questo rapporto incerto tra l'algoritmo da una parte e dal linguaggio umano dall'altra. L'algoritmo non passa attraverso la parola umana. Il miglior esempio è Google Translate, Deeple.com, traduzione automatica. È possibile oggi di tradurre dall'italiano a tutte le lingue principali del mondo, più di 200, senza che si sa né l'italiano né una di queste lingue. Vuol dire che siamo oltrepassati alla parola umana. In realtà l'algoritmo deve essere visto come una finalità, un fine, ma dove dietro ci sono persone, competenze, discipline, umanità, che viene in qualche maniera messa a fattore comune per poi creare uno strumento che però deve essere usato dall'uomo. Ma di non vedere l'algoritmo come una cosa che prende una decisione al posto tuo, ma che in qualche maniera aiuta, perché chi l'ha creato in realtà è un uomo e ha un fine che può essere buono o meno buono, però è sempre il governo dell'uomo in questo momento.